Buonasera a tutti e benvenuti qui al giorno delle sette a base. Ciao, mi chiamo Alessandro, sono qua in vacanza a questo paradiso, però devo dire che qua al Jolly Disco Bar ci si diverte sempre, ogni sera c'è una serata molto divertente, musica dal vivo, questa sera siamo in attesa di Giuseppe Masia che farà uno spettacolo stupendo di Caparello. Noi siamo al Jolly Disco Bar, stiamo qua in compagnia del sottoscritto Giuseppe Masia che questa sera deve fare uno spettacolo appunto a Costa Paradiso dove tanti anni mancava in qualche mancava. Maresciallo dietro la collina, con l'autovelo già dalla mattina, il lettino dentro non si sa mai, ma se mi fermi per te sono guai, perché se soffio dentro la bompetta ti faccio esplodere la camionetta, con mio compare ci siamo ubriaccati, non siamo ancora tornati. Buonasera a tutti, noi siamo qui nella meravigliosa Costa Paradiso, io sono Luca Cassol, già striscia dal 2001 al 2014, perché quest'oggi al Jolly Disco Bar ci sarà uno spettacolo meraviglioso, perché c'è il connubio fra Cabaret e V-Band, live band, i Pampers di Colorado, più la V-Band che è stata ammattatrice di striscia la domenica per tantissimi anni, quindi ci sarà Cabaret Cabaret con questi due ragazzi che sono meravigliosi, fanno riderissimo e musica, la musica bella italiana soprattutto da cantare e da ballare per tutte le generazioni. Siamo qui in compagnia dell'amico Giuliano che ci ha appunto ospitato in questo suo locale meraviglioso e che dire, siamo qua in questa isola fantastica che è la Sardegna, in questa costa meravigliosa che è Costa Paradiso, meglio di così, siamo fortunatissimi. Sì, prova, 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 sì, prova, prova. Per cui io pregherei tutti voi di accoglierli con un applauso meraviglioso perché loro davvero non si esistono se non hanno un pubblico caldo e forte che applaude dal primo all'ultimo all'ultimo, ho il piacere di presentare qui a Costa Paradiso, loro i Pampers! Grazie, grazie, buono, resti da tutti, un grande applauso alla V-Band, please! È capitabile cosa, ne rivediamo dopo, grazie nello stacchietto!